Ah, sono Michele, abbonato dal 2010, la prima partita è stato un Bologna-Pisa del 91, 0-1 ha vinto il Pisa. Il giocatore più forte è Di Vaio, sì, sì, Di Vaio. Grazie. Grazie mille. Sono Riccardo, sono abbonato al Bologna dal 2007 e la prima partita del Bologna, che ho visto allo stadio da abbonato è stato, non mi ricordo, francamente, e comunque il giocatore più forte che abbia visto da abbonato è stato Marco Di Vaio e insieme a Di Vaio ci aggiungo anche a Lino Diamanti. Io sono Filippo, sono abbonato dal 2010, la prima partita che ho visto è stata Bologna-Venezia 1-1, signori e Gans, e il giocatore più forte d'abbonato, sì, dico anch'io Di Vaio. Ciao, mi chiamo Gianna, abbonato dal 2009, la prima partita non me la ricordo, ma il giocatore più importante per me è Marco Di Vaio. Ah, sta bene, ciao. Ciao, sono Riccardo, sono anch'io un tifoso rosso-blu e sono abbonato da quattro anni anch'io. La prima partita allo stadio, non mi ricordo contro chi eravamo, ma mi ricordo che vincemo 2-1, signor Locatelli, il mio idolo di quando ero piccolo, il più forte giocatore e il capitano, Marco Di Vaio. Grazie.